12 anni fa correvo in 500 ma non ho mai guidato andava certamente sottolineata la personalità diabolica questa nuova 650 amici di moto.it siamo al moto festival un'iniziativa che ha solo moto il netflix delle moto che inizia dal 7 novembre in concomitanza con eicma e siamo qui per una puntata speciale un'intervista speciale con il grande nico cereghini ecco nico ciao nico ciao nico che ci racconta come funzionavano le prove moto che lui ha fatto è stato il pioniere di questa disciplina che aveva disciplina beh diciamo che in televisione sono stato il primo a fare però in realtà sui giornali chiaramente esistono da che esiste la moto le prove certo pioniere delle prove in tv cioè in tv ci racconterai particolarmente queste queste come funzionavano eccetera io direi di partire subito però partirei con qualcosa di questo genere che ti faccio sentire qualcosa quando senti questa musica quali sono i ricordi che ti affiorano ecco e beh certo dei adami c'è la redazione del grand prix le prove il mondiale è stato tutto un mondo che si è aperto ma non solo per me anche in realtà per gli appassionati perché devi considerare e tu quanti anni hai di tu sei di che anno 2010 46 magari io ne ho 41 sono dell'82 se ne ritorno è sì certo però avevi anni quando ho cominciato lì a grand prix e in realtà cioè lì ha cambiato un mondo perché di moto e televisione non si parlava c'erano c'erano le dirette dei dei gran premi da pochi anni perché la prima diretta dall'estero del mondiale del 79 gran premio l'olanda il duello shin ferrari perché prima possiamo vedere solo le gare in italia quindi per dire e noi abbiamo messo invece in televisione anche le moto di produzione ma poi con la truppa andavamo raccontato questo dentro il paddo che si vedevano i piloti nelle loro interviste nella loro vita privata nei negli scherzi era un modo per entrare nel moto mondiale che prima non esisteva bellissimo e poi le prove certo le prove sono iniziate lì 85 85 e il primo distinguo che penso ci sia da fare come ci siamo un po messi d'accordo anche sulla scaletta alcune domande eccetera è che c'erano prove di una giornata e super prove era questo un po come funzionava bene in realtà le super prove le fatte poche perché perché erano troppe impegnative non ce la facevamo la prova normale diciamo che era su quattro minuti allora quando abbiamo cominciato poi è stata ridotta a tre minuti era girata in pellicola quindi con altissimo livello di qualità cioè in pellicola facevamo queste prove facevamo c'era non solo moda sul canale 5 e poche altre cose tutto il resto era già in elettronica e quindi c'era la troupe cinematografica si girava proprio con con la troupe cinematografica dal regista all'operatore l'assistente il fonico il macchinista tutta sta gente quasi lavorava una giornata intera la sua prova invece era di due giorni però in realtà poi ne abbiamo fatte abbastanza poche mediamente quella la prova quattro minuti in onda tutto l'anno perché poi gran primo si fermava mai in onda alle a mezzogiorno prima e poi alle 13 della domenica orario strepitoso quindi erano una cinquantina di prove l'anno bene e anni d'oro una cinquantina di prove l'anno e comunque la media era 25 28 30 prove l'anno anche con la neve è sì e comunque vabbè tu sei famosissimo per questo slogan che avete inventato e dici che però la storia in merito di un fonico che te l'ha un po si no nel senso che vabbè del casco subito volevamo parlare del casco ma di fatto era già obbligatorio quindi dire mettete il casco in testa aveva poco senso quindi casco ben allacciato perché c'era gente che il casco lo portano slacciato lo portare in cima alla testa portare in qualche modo bastava portarlo capito e le luci ecco perché la prudenza anche quella va bene è venuta da sé invece le luci accese anche di giorno è stato un fonico che era un motociclista ed era partecipi della troupe che mi disse gigi legnani si chiamava che mi disse ma dai raccomandiamo le luci che all'estero sono già in francia erano già obbligatorie per dire nel 85 e quindi mi era sembrato un ottimo consiglio ed è diventato subito lo slogan casco in testa ben allacciato luci accese anche di giorno e prudenza sempre e poi c'era comunque durando grand prix tutta la stagione facendo voi proprio tutto l'anno poi andavate in strada a fare le prove con qualsiasi condizione caldo freddo neve non lo so che insomma eh sì successo anche con la neve sì sì in quegli anni la si andava sempre poi agli anni 90 invece gran prix si fermava d'inverno e allora quel punto lì le prove cominciavano con la stagione anche buona e finivano a ottobre quindi per fortuna tutto si è aggiustato ma all'inizio abbiamo avuto anche diverse disavventure perché andare con la neve non era il massimo ma è in quei tempi lì in quegli anni lì te lo sai che che ascolti faccivate con un grand prix avevi qualche certo 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 noi avevamo mediamente adesso gli anni sono stati tanti perché con le prove ha cominciato 85 finito nel 2010 quindi 35 anni le cose sono cambiate però siamo comunque viaggiavamo sempre sul milione e mezzo milione 6 c'era stati punti di 2 milioni e comunque sempre oltre il milione anche negli ultimi anni di esistenza di di gran prix e in tutti questi anni se tu dovessi elencare un po le moto che ti che sono rimaste più insomma di cui ti è piaciuto fare la prova quelle che sono state più apprezzate quale indicheresti così abbraccio va guarda allora tra quelle delle 125 stradali chiaramente le abbiamo provate tutte ci sono sono state delle giornate particolari facevano prove molto ricche abbiamo coinvolti piloti per dire a un certo punto abbiamo provato le 125 garelli sportive non una moto di grandissimo successo però per quella prova li abbiamo avuto gresini e gianola che erano i piloti ufficiali e abbiamo fatto la prova sulle strade normali con gianola che faceva il pazzo e ci siamo divertiti un casino con l'aprile rs gramini campione del mondo della 125 e con alex andiamo al pano dei melegari e mi ricordo che quella volta lì io gli insegnai a mettere la mano sull'asfalto durante la piega no piega mano destra sul manubrio e la sinistra che toccava terra che gli era piaciuto tantissimo poi lui lo scherzo l'ha fatto ancora tante volte nella sua vita gli ho insegnato via marano i melegari e piloti poi li coinvolgevamo spesso per esempio cadalora venne con noi una volta in appennino a fare la prova di un'onda cbr 600 e anche in quel caso c'era la neve per terra e avevamo trovato tre curve pulite e la prova sono riusciti a farla su quelle tre curve senza neve e cadalora aveva la tutta di pelle traforata perché era riduce da una di quelle trasferte extra europee dove era già estate e quindi aveva quella tutta sotto mano ha messo quella momenti congela poveretto prove più famose beh le 125 sicuro un po tutte le super sportive soprattutto ma anche l'enduro e poi bella transalp l'africa twin con orioli la tenere con con de petri la 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 suzuki come si chiamava la l'enduro la big forse la 750 con franco picco insomma i piloti erano spesso coinvolti anche perché le case erano contenti di vedere il loro testimonial più importante della prova in gran prix quindi arricchivano la prova beh aureoli è stato mitico l'abbiamo coinvolto più di una volta e io mi ricordo e tra l'altro ci abbiamo anche le immagini di quella volta che gli hai o avete scogitato di insabbiare la moto in questa duna che doveva essere tipo africa in africa ma in realtà dove eravate in realtà eravamo sulle sponde del po credo che fossimo appena fuori il ponte della becca c'era una cava la prova era quella dell'africa twin e avevamo girata sull'argine del po orioli aveva fatto dei salti meravigliosi con una moto pesante poco adatta ma orioli orioli e poi alla fine se abbiate questo mucchio di sabbia dentro la cava e simulava un po la la duna da parigi la cara si è lì abbiamo fatto lo sketch e di orioli insabbiato nella duna e lui diceva ma che duna che qui dietro c'è il ristorante vabbè dopo faceva vedere la tecnica per uscire dalla sabbia e comunque anche quella era interessante era anche utile no ma tra l'altro di video in cui a real fedola ho trovato uno della transalpe in cui siete forse sulle alpi suppongo a provare guarda siamo siamo sul teatro delle prove che eravamo dietro sormano dove va sempre perfetti con la squadra il primo approccio con tutte le moto in prova le facciamo tuttora a sormano anche con moto punti di lì dietro al pian del tivano c'era la neve anzi mi ricordo una volta la prova non l'ho più vista in giro è la prova di una tua reg aprilia tuareg 650 credo e io ero riduce dalla parisi dacar stiamo parlando di febbraio avevo appena seguito la parisi dacar mi ero comprato il shash lo shash che è quella charpona lunga sette metri con cui il quale che si facciano la testa con una tecnica particolare che aveva imparato e quindi era partito con la prova con su sto shash e poi a certo punto siamo arrivati con la moto allora c'era una pista da sci e pian del tivano adesso non c'è più perché non c'è più la neve ma c'era anche lo ski lift e c'era gente che sciava e c'era uno che ci ha visto che con le moto c'erano le riprese fa se volete vengo con gli sci vi faccio un bel cristiania mi fermo sci uniti sollevo la neve sopra la moto facciamo una bellissima immagine va bene dai facciamolo è arrivato ha fatto un volo della madonna ha centrato ha centrato la moto in pieno con gli sci ovviamente si ammazza e mi ha sfiorato io ero di fianco la moto che la raccontavo su mentre lui arrivava e io sono riuscito a rimanere freddo e a dire però questo tuareg per le nevi è stata una scena mitica ma comunque si si divertiva perché poi la troupe che era sempre gli stessi regi quello marco macaferri il assistente alla fotografia spesso nello stesso e insomma i componenti erano quasi fissi e quindi c'era sempre una collaborazione si inventava gli sketch secondo le condizioni no c'era la neve c'era il ghiaccio una volta mia farà cassato una palla di neve sulla testa che dentro c'era anche un sasso non si erano accorti a momenti mi ammazzano per dire scivolate sul ghiaccio spinto in tutte le posizioni sono queste cose qui che arricchivano la prova perché in fondo noi abbiamo sempre avuto come diciamo come regola il lavoro è lavoro e le cose si fanno seriamente però la moto è un gioco quindi bisogna che nella prova esca anche il divertimento il gioco la passione la voglia di svagarsi no di divertirsi insieme e questo quasi sempre usciva e questo ha fatto anche un po la fortuna per quelle prove lì era un linguaggio un po nuovo oggi invece lo si usa abitualmente no no io proprio su questo volevo dirti ci stavo pensando ora che in realtà voi avevate un linguaggio talmente innovativo che era un po già quello di youtube va bene che le prove ha detto duravano tre minuti che forse è meno cioè anzi sicuramente meno di quanto durano ora però gli attacchi che facevate sono quelli che ora vengono fatti su youtube perché quando tu bevi per rinfrescarti dopo aver provato una moto e quello è l'attacco del del video quando te nel video come di orioli mi sembra sei sdraiato per terra e si sente una musica tribale te apri gli occhi e strizzi l'occhio alla camera cioè quelli sono come è nata questa procedura di fare questi video così naturalmente oppure è una cosa che aveva davvero no guarda tutto naturalmente ti dico la verità la giornata era piena perché si cominciano a tiro presto si finiva quando finiva la luce quindi ci si dannava tanto si lavorava tanto però non c'era nessuna preparazione io ti dico la verità addirittura i testi che facevo lì per lì non li avevo preparati a casa naturalmente io avevo il cartello stampa con le notizie memorizzavo la potenza i dati il peso le cose solite che si raccontano nella prova però i testi me li scrivevo lì per lì mentre la troupe faceva la prima cosa cioè nel piano di lavoro prima cosa c'erano i dettagli della moto noi totali e dettagli come è giusto che sia prima che uno cada poi la moto si rovina oppure sporca semplicemente quindi finché la moto è pulita intatta si fanno i dettagli e tanto che la troupe faceva i dettagli ci voleva un'oretta un'oretta e mezza per spostare la moto tra la luce giusta inquadratura insomma c'era una certa cura e io facevi testi e gli scherzi nascevano proprio lì per lì il regista è sempre stato un burlone è un amico marco maccaferri che adesso è un registro importante fa le come di tv le serie credo che faccio 100 vetrine per dire cioè è un regista affermato era un po le prime armi allora è molto appassionato di cinema e quindi buttava dentro anche quello che aveva imparato dalla dall'arte del cinema insomma c'erano diciamo un po di arte c'era perché tutti ci mettevano del loro e alla fine veniva fuori un bel lavoretto e senti ma succedeva anche che queste prove venissero fatte all'estero che dovevate andare via stava di rado però so dove vuoi arrivare tu vuoi arrivare a laguna secca vero rené no perché laguna secca c'era la presentazione mondiale della fzr 1000 yamaha non era la prima era una serie che poi è stata rapidamente modificata perché obiettivamente aveva un problema sull'avantreno e sul sull'impianto frenante me ne accorsi appunto a laguna secca dove nella frenata proprio del cavatappi la truppa era sotto e avrebbe dovuto vedere me che spuntavo sai la famosa immagine valentino con con stoner spuntano dal nulla e si fiondano in questa destra sinistra che è molto impicchiata quindi con le riprese dal basso tu non vedi vedi solo asfalto cielo e piloti che sbucano io dovevo sbuccare di lì e fare la mia curva invece in frenata come ho dato una bella pinzata la ruota davanti con la progressione del calore la ruota andava a bloccarsi dopo è successo ad altri e la ruota anteriore si è bloccata io sono volato la truppa ha visto arrivare la moto di traverso cioè spiattellando sull'asfalto e io mi sono rotto la clavicola a quel punto c'era un grande investimento perché andare fino a laguna secca per fare una prova a video si la yamaha collaborava chiaramente perché aveva piacere vedere la prova a laguna secca però insomma bisognava portare a casa sta prova e siamo riusciti a farla con la clavicola rotta cioè sono andato all'ospedale mi hanno vendato mezzo lotto sulla clavicola pare fosse la sinistra e dopo di che un po con le controfigure perché c'erano altre che giravano quel giorno un po io credo piazzato fermo che chiacchierava senza far vedere la spalla rotta siamo riusciti a far la prova a portarla a casa nonostante tutto insomma quella sì però all'estero normalmente si andava poco senti ma è a proposito è parlato di controfigure e c'è un tema che te avevi piacere di sviluppare il fatto che nell'off road spesso c'è più controfigure chi era ma sì ma sì cioè io nello frodo non ho mai nascosto di non essere capace comunque qualcosa ho fatto da ragazzo ma non è certo il mio il mio il mio genere e però quegli anni lì sono stati anni in cui l'enduro 125 e quelle più grosse invece beh bisognava portare a casa qualcosa di spettacolare e noi si andava spesso in un terreno che adesso è vietatissimo di fianco alla malpensa era un terreno militare dove però c'era il libero accesso e quando non c'erano i soldati che facevano esercitazione magari di lanciarla bomba a mano e c'era anche quello quando non c'era nessuno si poteva entrare lì erano spazi enormi sembrava savana c'erano alberi isolati cespugli tanta terra pozzangher era bellissimo lì spesso andavamo con la moto da fuoristrada bene una la prima controfigura era amico e collega eliano riva che lavora per tuttomoto allora poi dopo quando c'era le aprilia le portava valerio dal io che lavorava in aprilia adesso e poi ha fondato l'ovale è quello che il cielo della ovale per le splendide motorette in mezza taglia e lui era un ex crossista era una bella manetta e quindi gli mettevo sui miei vestiti e faceva lui le scene più spettacolari e poi dopo invece arrivò roberto ungaro che allora lui correva con aprilia fu l'apriglia a dirmi guarda che abbiamo un pilotino che va forte molto bravo fare i numeri lui di fare i numeri era fantastico penne lui riesce a fare la penna a fermarsi in a cioè delle cose veramente belle bravo e lui allora faceva rappresentante di bigiotteria credo nell'oltre pop avese lui stava la e quindi lo coinvolsi e lui volentieri e dopo di che era bravo era appassionato mi chiese di mettere una buona parola per lui a motociclismo riusci a portarlo lì è uscito a essere direttore di motociclismo fuoristrada quindi poi dopo è stato bravo a valorizzarsi e gli piacere avrebbe voluto fare anche il telecronista e quando non so se tu l'hai visto faceva su eurosport insieme a lucchinelli il telecronista fu io a introdurlo a eurosport aveva cercato meglio non volevo più fare e gli passai il suo indirizzo quindi insomma è stata una controfigura che a me è servita molto ma forse è servito di più a lui visto quello quello che poi è riuscito a fare sì le controfigure c'erano poi naturalmente qualche volta facevo io anche le enduro quando non c'era la controfigura e quando ci si poteva accontentare di qualcosa di meno spettacolare e beh certo sulle moto da strada e in pista invece non mi servivano controfigure ma a proposito di di eurosport e quindi di televisione ma però negli anni 80 e così quel tuo posto di lavoro si può dire che era un po cioè era unico o lo facevi te perché lo sapevi fare solo te o comunque se ti volevi cambiare non c'era un altro posto per farlo in televisione o no no c'era solo mediaset dove erano anni in cui esplodeva tutto diventava tutto molto importante c'erano tanti mezzi tanti investimenti per cui nessun altro poteva nemmeno la rai avrebbe potuto reggere il confronto quindi era un posto unico diciamo questa grande è di poter fare qualsiasi cosa beh sì tant'è che si fecero tante cose per esempio c'è un punto nacque un programma si chiamava cadillac dove invece si facevano cose molto pattinate tutte sempre in pellicola servizi di grande prestigio mi ricordo non so una volta abbiamo portato a varano dei melegali tutte le mv della collezione dell'americano le mv da corsa e venne ubiali e facciamo un servizio splendido su queste mv da corsa tutte dalla 125 da 500 un'altra volta facciamo al mugello una prova diciamo uno confronto tra una lamborghini contact e la suzuki gs xrm 100 molti lo ricordano un bellissimo video in cui c'era questo confronto tra la macchinona spiattellata con l'alettone dietro e la foto la più la sportiva più più potente che c'era in quel periodo cioè cose molto spettacolari si si viveva si viveva la consapevolezza di di un momento particolarmente felice perché si poteva fare quasi tutto bastava avere le idee si faceva ma te ti ricordi come ti arrivò l'offerta per andare a lavorare lì e se quando ti arrivò pensasti cavolo ora vado a lavorare in tv in televisione divento ricco famoso così no però ricordo benissimo allora media si aveva appena acquisito rete 4 da mondadori ea rete 4 a mondadori lavorava una persona grande appassionato di moto si chiama gabriele buora e che passò in pub l'italia iniziative speciali in quel momento si era deciso di potenziare gran pri e farlo diventare intanto una produzione interna perché fino al 1984 era prodotto fuori da una casa di produzione esterna si chiamava pool communication invece si decide di produrlo internamente non c'erano ancora i giornalisti in mediaset l'ho già detto altrove no a te rené l'anno scorso i giornalisti erano tre rino tommasi rino tommasi che ancora vivo a te avevo detto è morto invece no è vivissimo rino tommasi oscar orefici che purtroppo non c'è più e io tre giornalisti tutti a mediaset non c'era non c'erano i telegiornali non c'era la diretta non c'era nulla e questo buora decise di spingere molto sulle moto gran pri prima di allora le moto non aveva mai toccate e a quel punto mi chiamò mi chiamò mi conosceva perché io per rete 4 brevemente avevamo fatto insieme a dipillo giovane di pillo facemmo delle prove moto vi faceva fuori strada io la strada per una trasmissione si chiamava a tutto gas una cosa breve però questo gabriele buona se lo ricordava e quindi mi coinvolse subito a quel punto si parte subito prove moto mondiale eccetera non è che lì per lì fu un accordo molto parziale il primo anno si era previsto poco poi il lavoro invece diventò talmente tanto per quella fine dovessi dedicarmici completamente nell'85 io cominciavo anche come vice direttore a lavorare a motociclismo e per cinque anni riusciva a fare tutte e due le cose poi poi non ce la feci più e scelsi da televisione sì a proposito appunto l'hai citato l'anno scorso abbiamo fatto quell'intervista che era più sul sul tuo lavoro nella tv di medisette di berlusconi anche sull'inviato il moto mondiale eccetera questa è più focalizzata sulle prove tempo in quest'anno è venuto a mancare proprio il factotum di tutta questa faccenda quindi se ci fai un ricordo in breve l'hai anche scritto quando è morto ma sta bene anche qui in video se ce lo fai scusa non so chi ti riferisci chi è il factotum in tutta questa vicenda qui lo taglieremo a berlusca no scusa si parla allora rifami la domanda che poi tagliamo qui allora hai citato hai ricordato l'intervista che abbiamo fatto l'anno scorso che era più sul sul discorso dell'inviato e del moto mondiale eccetera e nel frattempo però è morto il grande regista di tutte queste operazioni di medisette cioè silvio berlusconi quando è morto hai fatto un ricordo scritto però magari ci sta bene anche qua ora a distanza di qualche mese insomma berlusconi è stato personaggio sicuramente discusso e discutibile però il super politico ha fatto cose buone non lo so sarà sempre di molto discusso io personalmente non ho mai votato per lui ma devo dire e non l'ho neanche conosciuto di persona se non incrociato per di volte però come imprenditore soprattutto della televisione è stato è stato fantastico perché lui si è inventato davvero non solo un business ma anche un mondo un posto di lavoro un linguaggio che poi ci ha portato magari non soltanto cose belle ma che però in quella fase lì anni 80 è stata per chi ci ha lavorato straordinaria ma in fondo anche per i teri spettatori hanno trovato un'offerta straordinariamente ricca poi magari il livello non è sempre rimasto alto poi magari le cose sono scese si è banalizzato i contenuti insomma non tutto è oro però in quegli anni lì lui è stato un innovatore molto molto intelligente e creativo purtroppo può essere dedicato ad altro e non è più stata la stessa cosa certo senti sulle circa facciamo un conto a occhio 25 anni 40 prove l'anno sulle mille prove che hai fatto forse una di una tra quelle che si è salvate che si trovano immagini è quella in cui vi hai provato in un piccolo circuito inglese la yamaha 500 campioni del mondo cos'era all'inizio gli anni 90 nessi sarà stata 90 90 91 con renei certo la moto di renei sì quella volta lì guarda erano i tre giornalisti c'era metto oxley e che è tuttore in attività e alan kachkart quindi due anglofoni e poi io e fu un'occasione unica io e gigi soldano corremo su di corsa tutto in giornata viaggio arrivo il circuito rientro in realtà si fecero pochi giri perché purtroppo le moto da corsa così che i giornalisti le provano su pochi giri portare a casa delle emozioni delle sensazioni e possibilmente qualche bella fotografia ma molto di più non si può fare in quel caso erano invece delle immagini delle riprese è però la moto la cosa più straordinaria è che va bene non avrei potuto fare chissà che numeri perché non era neanche un clima tanto favorevole e la moto per per 500 da corsa del periodo in cui le 500 le più difficili da usare perché 130 kg e 180 cavalli quanti ne avevano insomma era un dragster non è una moto ma la cosa peggiore era che avevano dei gommoni soprattutto dietro per cui se tu non la buttavi giù di forza non la guidavi in controsterzo di forza facendola derapare soprattutto come faceva renei la moto non la facevi curvare cioè erano quegli americani lì che venivano dal dirtrack come ha raccontato bene cadalora in altre occasioni che avevano fatto quelle moto e loro le usavano così mentre un pilota europeo ha sempre guidato con il feeling sull'avantreno e quelli invece guidava di traverso che era un altro modo di guidare quindi quando tornai da quella prova chiamai cadalora perché lui ci sarebbe salito subito dopo su quella moto quindi era il 93 stiamo parlando della moto campione del mondo 92 perché mi ricordo chiamai cadalora gli dissi guarda luca che quella moto lì non si guida è un camion e lui mi dice figurati e purtroppo invece lo scoprì le sue spese e ci mise un bel po' a metterla a posto poi riuscì e poi vissi due gare purtroppo la seconda vittoria coincise col disastro di renei a misano e quindi fu tragica però però insomma la moto era così era in guida poi a posteriori ti ha dato ragione sì sì mi ha dato ragione di sicuro altro che no 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 certo era così però si faceva fatica crederlo era così è impressionante che si vede che te praticamente ogni volta che esci di curva dai gas si era sempre su una ruota non c'era modo l'erogazione era difficilissima da gestire sì cioè ricordo io venivo dalle 502 tempi però non c'era niente di paragonabile a quelle che guidavo io i miei tempi poi mi era capitato anche di guidare successivamente evoluzioni successive la onda tre cilindri nsr la kajiva tante altre moto però quella Yamaha lì e quelle moto quelle 500 di quei primi anni 90 erano pazzesche erano veramente pazzesche inguidabili dopo invece quando arrivò Valentino erano delle moto con cui volendo si poteva andare al supermercato a fare la spesa la moto di Duan era una moto che probabilmente dai 3000 giri veniva fuori dalle curve volendo però la no aveva 1000 giri di erogazione e però con 180 cavalli 130 kg quindi sono pazzesco senti ma poi ne hai guidati altri di prototipi a parte quando hai fatto il pilota tra gli anni 60 e 70 dopo come giornalista eccetera sì ho provato un po di moto da corsa alcune particolari per i giornali tipo la elf la onda elf dell'ingegner de cortans quella che aveva con l'avantreno particolare però mai nessun sistema è stato capace di sostituire la forcella tradizionale in maniera definitiva quindi non era facile si ho provato un po di moto da corsa però la pattern piuttosto che le garelli dai cinquantini garelli in su insomma un po tutto quello che capitava questo per i giornali perché naturalmente le mie prime prove moto sono state fatte per i giornali quando arrivava il motociclismo 70 mi misero a provare i cinquantini perché ero ero l'ultimo arrivato e i cinquantini erano talmente tanti perché allora c'erano dei cinquantini straordinari sportivi da da regolarità chopper c'era di tutti i generi e quindi era un mondo era un mercato straordinario e motociclismo li provava tutti io ero addetto alle prove dei cinquantini poi fui promosso per fortuna perché mi piaceva provare qualcosa di più ma quando facevi le prove per i giornali come funzionava dovevi scrivere un test in cui raccontava un po le impressioni caratteristiche ma è cosa c'era una foto due foto no beh la moto me la davano ti davano la moto e ti dicevano tienila una settimana e poi ci porti il pezzo il pezzo di sé da scrivere non era difficile perché poi allora io avevo vent'anni però leggevo motociclismo anzi lo imparavo a memoria da anni quindi sapevo tutto e quindi non era però garelli il capo era era un personaggio straordinario però pretendeva che si scrivesse tutti come scriveva lui quindi tu mi portavi il pezzo e cominciava via questo via quello via quell'altro alla fine del pezzo o lo scrivevi con il suo linguaggio oppure era meglio non scrivere ma la cosa peggiore era la scheda tecnica perché le schede tecniche erano dettagliatissime e liberamente diventavi pazzo a fare con una macchinetta da scrivere meccanica ci mettevi una giornata a fare staccavolo di scheda tecnica no poi dopo il sabato si andava due volte al mese alla pista pirelli a vizzola ticino e li pirelli faceva le foto delle di tutte le moto che per provare quel periodo i passaggi totali dettagli e poi c'è lui le metteva la moto per terra la faceva vedere di sotto di sopra da dietro davanti col dito dove rimettergli il dito per segnalare dove c'era il carburatore il dito dove c'era il clacson il dito dove c'era la vita del minimo c'era tutto era un panorama di fotografie che non so se vai a vedere le prove di motociclinio di quegli anni ci saranno 40 foto per ogni prova sostituire sostituirevano tutto il racconto video in sostanza eh sì certo certo molto molto dettagliato ma è negli anni settanta hai detto ti davano la moto all'incirca per una settimana anche dopo quando quando eri in tv o lì in tv ancora meno no in tv no in tv in tv la prova la facevi ritiravi arrivava la moto col furgone e la provavi e andavi però erano quasi sempre moto che avevo già provato per il giornale perché comunque era la stessa moto che stava girando quindi siccome con motociclinio rimero il primo finivo per essere uno che l'aveva già provata la moto raramente era una moto che non avevo mai visto prima era sempre una moto che conoscevo già e poi e poi la descrizione diciamo che era diversa il taglio anche della prova cioè a motociclinio io scrivevo e facevo la prova per un pubblico di appassionati di esperti e quindi il linguaggio era quel linguaggio i pregi difetti era tutto ben precisato la prova tv si era una presentazione spettacolare più che una prova anche lì c'era un difetto e i pregi però diciamo che arrivo gente aveva un pubblico generalista non poteva usare lo stesso linguaggio non so se metti caso la moto sconfietti 250 e tende a frenare poco mentre scalda il freno sul giornale lo puoi scrivere perché il motociclista sa di cosa stai parlando tante moto fanno così poche sta parlando di quegli anni là dove tutto stava sviluppandosi poche già sono aggiornate e con un piatto frenante all'altezza ma se tu in televisione andavo a dire che la moto frenava poco veniva fare un casino perché cioè la gente si domandava come nel giro moto che non frenano cioè voglio dire lanciare degli allarmi che non erano incomprensibili quindi il linguaggio era diverso anche l'approfondimento della prova era differente certo 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 e giornali televisione e poi sei arrivato a moto.it hai fatto anche le prove su sui nostri canali su youtube eccetera quindi è proseguito anche anche lì è questo questo lavoro barretta passione sì però ecco sul sito le prove ho fatto qualche prova comparativa col gissi con il perfetto col paurillo però non sono più andato alle presentazioni per esempio che era un altro lavoro importantissimo che è cambiato tanto nel corso del tempo quindi ho fatto alla fine per moto.it non ho mai fatto una prova mia in cui io da solo provavo la moto quindi è tutto un altro lavoro ecco sulle presentazioni è abbastanza interessante rene immaginare che una volta quando andavamo in giappone per la presentazione della onda 1000 cbx 6 cilindri noi stavamo in giro una settimana va bene andavamo lì facevamo due giorni di pista magari e le foto le facevano quelli della onda oppure sì io avevo la prima macchinetta per fare i totali e i dettagli poi tornava a casa con tutta calma e quindi magari attaccandoci anche due o tre giorni di turismo in giappone o dove cavolo eravamo e poi con calma scrivevo la mia prova oggi i poveri perfetti paolillo andretto coppia prova la moto durante il giorno col gopro fanno i firmati video soggettive e poi invece di cenare si mettono li montano il video scrivono il pezzo ecco la cosa pazzesca e in più mi dicono che spesso i tempi sono talmente stretti per cui non dormono neanche fuori cioè in giornata vanno chissà dove provano la moto e tornano la cosa folle allora erano tempi d'oro devo dire tempi d'oro anni 80 e 90 sono stati mietici perché i giapponesi volevano entrare tutti i modi quindi erano generosissimi non è che ci dessero dei soldi ma ci trattavano come dei principi andavamo nei migliori hotel del mondo mangiavamo nei migliori ritoranti c'è una cosa fantastica era veramente mitico senti ma è la prima volta che hai toccato il ginocchio per terra se lo ricordi ma sì però non è stato in gara perché finché correvo io sì no in garsi erano proprio le prime toccatine perché allora non c'erano nemmeno saponette fino al 78 la mia tuta non aveva le saponette cominciavano a nascere lì cani roberts che metteva smontava con le pinze tagliava un flacone di plastica dell'olio e lo nastrava sul ginocchio e nasceva il primo slide in quel modo lì 1978 io non ce l'avevo slide e sbucciava la tuta le prime toccatine però poi dopo invece alla pista pirelli che c'era un bel asfalto durante le prove si toccava tanto col ginocchio proprio lo si metteva giù proprio come appoggio sì sì anche con le 125 bello bello mi ricordo sì e ora vai sempre in moto lo tocchi sempre il ginocchio per terra no al ginocchio per terra un po che non lo tocco in pista non ci posso più andare perché non essendo allenato cervicale schiena braccia non ce la fanno più e per strada certo non è il caso neanche di pensarci però vai sempre in moto tutti i giorni però vado sempre in moto sei stato in giro con la vicento mandello oggi sono in giro con la mia rt per milano quindi si la moto la uso tutti i giorni perfetto perfetto va bene nico io ti ringrazio mi sembra che che abbiamo detto tutto se c'è qualcosa che vuoi aggiungere te se no ringraziamo tutti e salutiamo aggiungo viva la moto viva il moto festival viva moto puntiti grazie rene e ricordare le cose belle fa sempre bene fa bene a me ma fa bene anche a tutti gli appassionati perché in fondo rivivere no i momenti d'oro della della nostra passione è sempre bello dunque grazie grazie a te ciao nico ciao a tutti ciao 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 ciao